La faida tra Fedez e Tony F sembra non conoscere fine, con entrambi i rapper intenti a scambiarsi dissing sui social media. Questo scontro, che è cominciato solo qualche giorno fa, ha già assunto toni piuttosto grotteschi, coinvolgendo anche persone che non hanno nulla a che fare con la questione, tra cui Chiara Ferragni. Chiara, la quasi ex moglie di Fedez, ha cercato di distaccarsi da tutta questa polemica, dichiarando su Instagram di voler rimanere fuori dai giochi. Dopo il brano Chiara, che include un presunto vocale di Ferragni, Fedez ha risposto con allucinazione collettiva, il cui rilascio in versione estesa è previsto per l'una di notte. Nel frattempo, Fedez ha postato su Instagram alcune barre del suo nuovo dissing, atteso per venerdì sera. La prima frase è già molto provocatoria, chissà se lei era d'accordo a pubblicare quel vocale. La tensione è palpabile e le minacce legali sembrano dietro l'angolo. In un momento di evidente frustrazione, Chiara ha esclamato, abbi rispetto per i figli, mentre allo stesso tempo condivideva audio con rapper che la deridono nei dissing. Fedez ha risposto ironicamente, suggerendo che la sua strategia di uscita fosse di parlare male del marito, affermando, mi dispiace che Chiara ti abbia dato confidenza. Almeno con te possiamo dire che ha fatto beneficenza.